Alfredo Moroni, assessore uscente, candidato consigliere con il Partito Democratico, innanzitutto che campagna elettorale è stata? Noi come coalizione legata al sindaco Massimo Cialente, al sindaco uscente, abbiamo condotto una campagna elettorale molto corretta, una campagna elettorale se vogliamo anche sorridente, nel senso che abbiamo la necessità comunque di mantenere un clima positivo in questa città che non può certamente subire anche una serie di conflitti ulteriori e di disagi ulteriori perché sappiamo molto bene come la nostra comunità oggi manifesti il disagio forte, in particolare dopo il sisma. Quindi è stata una campagna elettorale sicuramente anche dai toni duri. Io credo che il sindaco uscente abbia dimostrato e quindi abbia avuto la capacità di convincere gli elettori e le elettrici della bontà della sua proposta, della bontà soprattutto relativa alla necessità di proseguire il cammino che è stato iniziato in questi anni senza soluzione di continuità, possibilmente creando le condizioni per evitare un ulteriore momento di stasi che sarebbe poi il secondo passaggio, cioè l'eventuale ballottaggio, cioè dobbiamo mantenere una rotta che abbiamo avviato, dopo tante difficoltà abbiamo un governo che ci sta vicino, abbiamo tutte le condizioni, abbiamo tutti quanti i presupposti per poter proseguire un'opera che è iniziata. Sicuramente è un'opera complessa ma la ricostruzione della città ha bisogno di competenze, di professionalità, di conoscenza, di relazioni, di relazioni anche con la politica a livello nazionale, cosa che io credo esclusivamente la nostra coalizione guidata dal sindaco Massimo Cialente è in grado di assicurare. La candidata Cialente ha più volte rivolto un appello al voto utile per ottenere una vittoria al primo turno, secondo lei è possibile questo scenario o come molti pregonizza un secondo turno di ballottaggio? Indubbiamente con la presenza di otto candidati sindaci, con questa disgregazione, non è un fatto semplice vincere e chiudere la partita al primo turno. Certamente è un nostro impegno anche di questi ultimi giorni, tentare di chiudere questa partita perché c'è bisogno di mantenere un'attività, di continuare a lavorare, di non creare interruzioni eccessive. Noi dobbiamo fare in modo che effettivamente la gente non solo partecipi al voto, la nostra comunità deve manifestare attraverso la partecipazione al voto, deve dare il proprio giudizio, sia al sindaco Sciente sia alle altre proposte degli altri candidati sindaci. Ma noi credo che abbiamo le carte in regola anche per chiudere la partita al primo turno facendo in modo in questi ultimi giorni di campagna elettorale che tutti i candidati della nostra, delle nostre liste a sostegno di Massimo Celente si impegnino fino allo stremo, cioè si impegnino in maniera totale per convincere soprattutto le persone che sono indecise, per convincere le persone che non vogliono andare a votare perché ancora ce ne sono ed è comprensibile, ma soprattutto per fare in modo che ci sia quel coinvolgimento anche emotivo, emozionale che noi abbiamo e che dobbiamo cercare di trasferire a tutti gli elettori in maniera tale che ci sia la possibilità di chiudere la partita al primo turno. Le condizioni ci sono, i sondaggi sono assolutamente favorevoli, c'è il buonsenso della gente, il buonsenso della gente è quello di dire che dobbiamo proseguire, dobbiamo continuare, non possiamo rischiare avventure, non possiamo rischiare che si ricominci da capo, non possiamo rischiare che se dovesse esserci un altro sindaco effettivamente bisognerebbe poi rimetterci in corsa da capo perdendo due o tre anni di tempo che in questo momento francamente non possiamo permetterci. Rapidamente, parlando di progetti e programmi, una cosa che a voi sta molto a cuore è quella della Smart City, rapidamente come la intendete e cos'è? Sì, la città intelligente ormai è sulla bocca di tutti, la ricostruzione intelligente è sulla bocca di tutti, altri parlano, noi abbiamo fatto i fatti, nel senso che abbiamo già presentato nel mese di dicembre un nostro progetto all'Unione Europea insieme alle città di Mostar e di Lorca proprio per realizzare nel nostro territorio insieme a questi due partner un'attività di ricerca, un'attività di sperimentazione nella nostra città proprio in ragione della ricostruzione intelligente. Abbiamo anche partecipato proprio in questi giorni per quanto riguarda i bandi PON, quindi i bandi del Governo nazionale che sono andati in scadenza il 30 di aprile, abbiamo partecipato a due progetti, uno con l'Università dell'Aquila e altri partner, un altro progetto con IBM e con la città di Napoli, la città di Napoli fa parte della regione Campania che è una delle regioni di convergenza, l'Abruzzo non fa parte delle regioni di convergenza, però c'era nel bando PON la possibilità di partecipare con una serie di accordi. L'ente locale, il Comune dell'Aquila ha deciso di misurarsi su questo terreno e lo stiamo facendo, lo stiamo facendo in maniera sobria, lo stiamo facendo in maniera tale che comunque si costruisca un percorso che è un percorso importante, è stato dichiarato dal Ministro Barca e dagli altri ministri e dal Presidente Monti nel momento in cui ci fu l'incontro con l'Ocse per quanto riguarda la questione di come impostare una ricostruzione efficace nella nostra città, adesso tutti ne parlano, noi effettivamente stiamo su quel percorso e lo stiamo facendo concretamente ed è sicuramente un'opportunità che non possiamo perdere, la dobbiamo cogliere, la dobbiamo cogliere con il mondo delle piccole e medie imprese e con tutti gli altri soggetti che sono molto sensibili a questa impostazione perché noi abbiamo bisogno non solo di creare le condizioni per una ricostruzione ma effettivamente per una ricostruzione di una città e di una socialità nuova, moderna, innovativa ed efficace. Telegraficamente perché votare Alfredo Moroni e Massimo Cialente Candirò sindaco? Alfredo Moroni perché io credo di aver dimostrato in questi anni, soprattutto in questi ultimi anni, dopo il sisma di essere stato sempre presente, di aver con grande consapevolezza, con grande onestà, di aver dato l'anima per questa città tra le tante difficoltà, di aver assicurato anche di una serie di risultati per quanto attiene alle deliche che mi erano state conferite, di esserci stato, di averci messo la faccia, di non essermi inventato come alcuni, molti oggi stanno inventandosi e soprattutto di aver partecipato a tutte le problematiche, a cominciare dalla questione del riallaccio gas subito dopo il sisma delle abitazioni. Non so, la problematica pesantissima di dove andare a mettere e come organizzare il conferimento delle macerie, la rimozione del conferimento delle macerie. Ma insieme a questo però ho anche affrontato questioni che, se vogliamo, sono questioni di carattere ordinario. Se vivessimo in una città non colpita da una emergenza del genere, quale quello della tutela del patrimonio naturale, della politica energetica, una politica energetica nuova ed efficace, una ricostruzione intelligente anche in questo. Noi abbiamo adottato e approvato un regolamento consigliare per la parte energetica del regolamento edilizio che è assolutamente innovativo. Ci sono stato su tanti argomenti, in ultimo anche la questione dell'organizzazione interna della macchina comunale che adesso, dopo i primi provvedimenti di impostazione, è pronta per poter essere, come dire, anche rivoluzionata, per essere messa al livello delle esigenze anche di celerità e di risposta all'utenza. Ecco, Alfredo Moroni c'è sempre stato, io metto a disposizione ancora la mia professionalità, ma soprattutto la mia esperienza e soprattutto il bene che voglio a questa città. E devo dire che Massimo Cialente esprime, se vogliamo, rispetto al bene verso questa città, il massimo delle condizioni e delle aspirazioni che ogni membro della nostra comunità potrebbe avere. Cioè Massimo Cialente è la persona che in una notte tempestosa del luglio del 2009 riuscì a sventare un attacco ferocissimo, una spoliazione terrificante nei confronti di questa città e so io perché ero presente quella notte in un briefing presso la Guardia di Finanza, so io che cosa fece Massimo Cialente e come dimostrò l'attaccamento a questa città e soprattutto come riuscì a difendere questa città da una spoliazione terrificante. Ecco, Massimo Cialente è persona che anche lui ci ha messo la faccia, sempre in proprio, ha affrontato tutte le questioni anche oltre quello che è diciamo nelle possibilità di un sindaco perché si è speso in tutti i modi possibili e tra l'altro ha un ritmo di impegno massacrante e forse ancora ha quella adrenalina e quindi quell'attaccamento alla nostra città che gli consente effettivamente di esserci e di presentare se stesso ed una squadra all'altezza anche per questa prossima consigliatura. Quindi l'appello al voto è un appello, se vogliamo, anche che viene da dentro, viene da un'emozione che ancora conserviamo perché abbiamo vissuto e stiamo vivendo insieme a tutta la comunità aquilana i grandi disagi, le grandi sofferenze, i momenti terribili e soprattutto vogliamo vivere insieme alla comunità aquilana il momento del rilancio, del nuovo sviluppo, della rinascita di questa città, della ricostruzione delle coscienze, delle intelligenze, delle case, del lavoro e dell'economia.